a tutti voi il mio tradizionale ben trovati per questo nuovo appuntamento con talk sicilia stiamo facendo come ormai tutti quanti praticamente sapete un giro fra i candidati cercando di ascoltare le opinioni un po di tutti e partendo evidentemente dai vertici oggi è il nostro più che gradito ospite in studio giuseppe provenzano peppe perché sempre peppe è stato un po anche nelle nostre cronache peppe provenzano partito democratico vice segretario nazionale del partito democratico candidato a palermo e non soltanto nell'uninominale ma anche nei collegi plurinominali e da vice segretario intanto lo ringraziamo per essere qui con noi nei nostri studi ma grazie a voi buonasera è dato nel plurinominale nel plurinominale non l'uninominale ormai con tutte queste candidature è una legge elettorale veramente complessa assolutamente complessa e forse sarebbe anche il caso di darle un po una ordinaria del futuro ma intanto si vota il simbolo si vota il simbolo sì però io dico il partito democratico però è abbastanza chiaro però ecco allora partiamo proprio da qui visto che stiamo parlando da qui visto che questo è un piccolo salotto al quale noi ci raccontiamo le nostre idee ma non sarebbe il caso in futuro chiaramente questa legge questa volta si vota così di tornare un po anche a mettere il valore dell'uomo nelle elezioni sono d'accordo bisogna cambiarla questa legge elettorale noi volevamo farlo ma in parlamento avevamo numeri molto risicati eravamo nei fatti gli unici a volerlo poi la destra si è opposta alla modifica della legge elettorale ma noi dobbiamo ridare di nuovo lo scettro in mano ai cittadini perché io credo una delle cause non la principale ovviamente di questo rischio di disaffezione dal voto e anche il fatto che i cittadini poi non scelgono i loro eletti questo è quindi un tema abbastanza importante ma da vice segretario nazionale del partito democratico la domanda prima la principe che viene in testa è qual è lo stato di salute del pd ci sono state tantissime polemiche non soltanto nella divisione con i 5 stelle ma anche nella scelta delle candidature beh guardi in realtà veniamo da un periodo in cui il partito democratico non è mai stato così unito come adesso è in questo momento la stragrande maggioranza della comunità del partito democratico non solo è unita intorno allo sforzo del segretario di ericoletta di questa campagna elettorale molto bella e molto intensa ma è una comunità che vuole combattere noi siamo guardi presenti giro stiamo facendo una campagna elettorale strada per strada casa per casa un po all'antica anche nelle piazze facciamo tante iniziative e io vedo un'attenzione crescente sa io dico sempre questa cosa cioè noi siamo in un momento storico se vuole poi ne parliamo ma come in tutti i momenti storici ci sono grandi opportunità e grandi rischi l'opportunità principale per esempio è quel piano di risorse europee per il quale noi ci siamo battuti e io personalmente da ministro per il sud della questione territoriale mi sono battuto affinché arrivassero in maniera prioritaria al sud con un vincolo di destinazione del 40 per cento queste sono le grandi opportunità che noi non possiamo sprecare dall'altro ci sono grandi rischi appunto quello di non utilizzare queste risorse o che queste risorse vadano a fine nelle mani delle mafie o peggio che restino nel restino non spese perché la regione non ha progetti o si fa bocciare come è successo fin qui e le opportunità vengono spesso date un po' per scontate dai cittadini una volta acquisite dicono vabbè ma lo sappiamo ma adesso invece cresce la consapevolezza dei rischi che corriamo anche dei rischi di sganciarci un po' dall'europa questa è la verità e questo riporta fiducia del partito democratico che è la forza politica che dà la garanzia che l'italia stia in questi binari che non è soltanto l'adesione a un campo di valori a un'idea della democrazia ha delle conseguenze sulla vita delle persone sulla vita delle imprese dei lavoratori perché oggi in europa noi facciamo la battaglia contro il prezzo contro l'aumento del prezzo del gas e da lì riceviamo quelle risorse che ci consentono poi di mettere in campo politiche che aiutino lo sviluppo a creare lavoro buono per i giovani e per le donne soprattutto di questa terra che se ne vanno abbiamo toccato un argomento che è forse quello più caldo in questi giorni di campagna elettorale ma non soltanto che è proprio quello dell'aumento del prezzo dell'energia che sta mettendo in ginocchio molte imprese alcune delle quali potrebbero anche scegliere di chiudere qualcuno ha già scelto di chiudere perché i costi sono insostenibili ma non occorrerebbe un intervento già immediato in queste in queste ore per non dire giorni sì io ne sto visitando tante anche perché lei lo ricorderà io da ministro per il sud della coesione territoriale ho fatto alcune misure straordinarie di cui si parlava da 30 anni e non si erano mai fatte tipo la decontribuzione sud che io ho chiamato fiscalità di vantaggio per il lavoro che tagliava nel mezzogiorno in Sicilia per tutte le imprese il 30% dei contributi previdenziali perché se tu ti mancano i servizi ti mancano le infrastrutture questo è un costo per l'imprenditore è in definitiva per il lavoratore e non è giusto che lo paghino loro ma lo deve pagare lo Stato perché è lo Stato che non ha fatto gli investimenti quindi mentre facciamo quegli investimenti noi compensiamo quel costo in più l'aumento dei prezzi dell'energia si sta battendo sulle imprese 150 mila rischiano di chiudere in tutto il paese e non solo quelle energivore come si dice l'industria pesante l'acciaio la ceramica tutte le imprese ormai sono colpite anche le piccole imprese dal commercio all'artigianato tutte tutte le imprese il panificio piuttosto che la pizzeria ma ovviamente tutte le imprese che stanno sono in ginocchio e questo significa il rischio di vedere lavoratori a casa in una terra che già ha percentuali di occupazione bassissima e più bassi d'Italia e non ci possiamo permettere noi di perdere altro lavoro si abbatte anche sulle famiglie ecco perché noi abbiamo proposto un intervento forte immediato di raddoppiare lo sconto fiscale che già è stato introdotto dal governo per tutte le imprese non solo quelle energivore di rateizzare anche il pagamento delle bollette soprattutto di fissare un tetto non solo europeo al prezzo del gas per fermare la speculazione ma un tetto nazionale per 12 mesi in questa fase di emergenza noi possiamo prevedere prezzi calmierati dell'energia e dare alle famiglie famiglie che già vivono in condizioni di grande difficoltà per questa inflazione fornire un consumo gratis di energia almeno soprattutto per i redditi medio-bassi quindi non solo per i redditi bassi anche per i redditi medi perché qui c'è un problema di cetto medio che rischia di scivolare nella povertà fino alla metà del consumo medio annuale e poi il resto a prezzi calmierati e allora certo che bisogna intervenire subito ma noi lo stiamo chiedendo e facciamo bene a chiederlo ma è paradossale che a farlo siano le stesse forze politiche Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia non ne parliamo che era l'opposizione e lo stesso Movimento 5 Stelle che hanno fatto cadere il governo l'hanno di fatto privato dei poteri di intervento perché è un governo come si dice in carica soltanto per gli affari correnti e che quindi è più debole sia in Europa sia in Italia che non può fare quelle scelte che servirebbero in questa fase di emergenza ecco perché è stato un errore farci precipitare in queste elezioni anticipate con una campagna elettorale che stiamo facendo ad agosto, settembre qui in Sicilia è ancora, diciamo io la sto facendo molto in Sicilia la campagna elettorale certo giro anche nel resto del paese da vice segretario nazionale però la sto facendo soprattutto qua e siamo ancora in estate assolutamente in piena estate abbiamo toccato quindi l'altro grande argomento che dobbiamo naturalmente affrontare che è questo rapporto con i 5 Stelle, c'è stato un divorzio in un momento fra virgolette drammatico in piena campagna elettorale, in Sicilia ancora peggio perché si era andata avanti con per quanto riguarda le regionali poi affrontiamo anche l'argomento regionali addirittura con primarie di coalizione che poi si sono buttate nel cestino della spazzatura in buona sostanza ma c'è stato uno scambio di accuse tra PD e 5 Stelle ma c'è poco da scambiare le accuse, tutti hanno visto come sono andate le cose il Movimento 5 Stelle sfiduciando il governo Draghi ha fatto un favore a Salvini e a Lameloni regalandogli esattamente quello che volevano loro cioè queste elezioni anticipate farci precipitare in una campagna elettorale di cui i cittadini in questo momento non sentivano il bisogno ma adesso basta polemica con il Movimento 5 Stelle noi la prova che volevano rompere loro l'abbiamo vista proprio in Sicilia quando hanno rotto l'alleanza mi faccia dire questo perché questo veramente a me devo dire è qualcosa che è stato incomprensibile cioè la dimostrazione che volevano rompere con il Partito Democratico l'abbiamo avuta nella nostra regione in cui nonostante la rottura nazionale in tanti io per primo abbiamo lavorato a mantenere un accordo non per ragioni di calcolo elettorale ma per il rispetto nei confronti degli elettori di quelli che avevano partecipato alle primarie 43 mila si erano iscritti alle primarie vinte da Caterina Chennice tutti avevamo sottoscritto un patto per rimanere fedeli a quel risultato andare avanti con una campagna elettorale e mettere in campo un'alternativa vincente a questa destra che si è porta dietro l'eredità pesantissima un vero e proprio fallimento del governo musumeci i primi ad essere arrabbiati sono gli stessi eletti del Movimento 5 Stelle che invece in Sicilia con l'alleanza la volevano fare detto questo per me questo è il passato oggi siamo concentrati sul presente intorno a questa come si fa ad abbandonare Caterina Chennice e fare un favore a Schifani per una forza politica che si dice addirittura progressista perché il Movimento 5 Stelle adesso dice che è progressista ma come si fa dico io e allora basta polemiche per noi la battaglia è con la destra stiamo facendo una campagna elettorale con la nostra candidata che sta incontrando stamattina ero con lei sta incontrando associazioni forze economiche e sociali perché questa terra ha bisogno di essere governata il problema è che non solo è da 5 anni che di fatto è senza governo perché se vuole le ricordo tutti i fallimenti del governo Mosumeci mi metto in fila il primo e per me è il più grave è stata la gestione disastrosa della pandemia con un assessore il suo fedelissimo Razza che ha fatto perdere la faccia alla Sicilia di fronte al mondo perché quella vicenda scandalosa del numero dei morti che veniva truccato è stata una cosa che ha fatto il giro del mondo ed è una vergogna c'è un'inchiesta in corso ma a me non interessa l'inchiesta mi interessa la politica sul piano politico è indegno significa dissacrare i nostri morti e questa è una cosa inaccettabile per una regione che ha subito tanto la pandemia poi tutte le riforme, tutte mancate rifiuti e siamo ancora con quelle discariche che tra l'altro sono in sofferenza e questo che cosa significa? un costo aggiuntivo per i cittadini che hanno un servizio pessimo e pagano di più acque, non ne parliamo forestale doveva fare la riforma del corpo forestale niente la burocrazia regionale è ferma non paga le imprese non pagava i dipendenti siamo davvero sull'orlo del fallimento per non parlare della cosa che dicevo prima il rischio che noi rimaniamo tagliati fuori dai finanziamenti europei un po' perché sono incapaci e si fanno bocciare i progetti come quelli sull'irrigazione delle campagne nel momento in cui soffriamo la siccità si sono fatti bocciare 31 progetti a livello nazionale il secondo ancora peggio è perché se tu non hai non sei sintonizzato con gli obiettivi da raggiungere a livello europeo i soldi non li prendi se non hai un piano dei rifiuti che sia in grado di conseguire quegli obiettivi di transizione ecologica che vogliamo realizzare se non fai gli impianti per la raccolta differenziata perché di questo si tratta tu i soldi per chiudere un ciclo integrale dei rifiuti dove ci sono miliardi non li prenderai io ci ho messo il vincolo del 40% ma se poi la regione non fa i progetti noi ci arriva a zero ecco perché noi abbiamo bisogno di una politica che sia sintonizzata con questi obiettivi ecco Schifani c'è un rischio ancora più grave non se ne sta parlando in questa campagna elettorale ma c'è cioè? Schifani è imputato nel maxiprocesso montante nella seconda fase del processo montante sì che adesso è stato rionificato se ne sia accennata la cosa non è che non se ne sia parlato se ne sta parlando poco di una conseguenza di questo perché io non voglio parlare del merito del processo perché i tribunali andiamo a viaggiare i processi si vanno nei tribunali anzi io auguro a Schifani di uscirne bene ma se lui dovesse essere condannato in quel processo decadrebbe da presidente della regione trascinando la Sicilia nel caos istituzionale cioè la Sicilia si troverebbe senza governo in un momento delicatissimo di emergenza economica e sociale perché dice quello che è successo con Pogliese questo è il timore esattamente così ma come lo fai con una regione è un atto di irresponsabilità questo espone la regione a un rischio enorme cioè di trovarsi all'improvviso perché è condannato se è condannato ripeto io gli auguro di uscirne benissimo ma se è condannato decadrebbe da presidente della regione e noi ci troviamo senza governo in un momento in cui c'hai l'emergenza economica e sociale in cui c'hai il caro dell'energia in cui devi fare tutto il possibile per prendere questi soldi che arrivano che sono la più grande opportunità che ha la Sicilia e che stavolta davvero non può sprecare cioè noi ci siamo battuti in Europa per questo io mi sono battuto per fare quelle misure di cui le parlavo per il sud ora tutto questo rischia di essere sprecato per non parlare dell'autonomia differenziata per non parlare della proposta della Lega di spostare i ministeri al nord ma lei le pare possibile che Salvini dice l'innovazione la diamo a Milano il mare in Sicilia è un'idea di paese cioè il nord deve produrre deve innovare eccetera e il sud la Sicilia deve essere un posto dove al massimo uno viene a farci le vacanze si viene a prendere il sole al mare e i giovani meridionali continueranno ad andare con questa politica quello che è successo parlando di PNRR e parlando anche di questo di tutto quello che sta accadendo quello che è successo nei giorni scorsi nei mesi scorsi è stato che alcuni progetti non sono andati a buon fine si sono persi delle risorse questo lo sappiamo tutti lo abbiamo scritto lo abbiamo raccontato l'abbiamo affrontato ma i cittadini devono scegliere anche su questo la domanda che pongo adesso è questa con l'esperienza fatta intanto ricordiamo ha avuto un ruolo anche in assessorato al bilancio alla regione siciliana economia bilancio durante il governo Crocetta da ex ministro per il sud qual è la soluzione perché la regione che sostiene di non avere le risorse fisiche personali professionali per riuscire a fare i progetti è questo il vero problema qual è l'intervento Caterina Chinnici seduta esattamente in quella sede ci disse che la prima riforma da fare è proprio quella di risistemare da un punto di vista amministrativo il personale la macchina regionale guardi questa è stata sempre la mia battaglia Caterina Chinnici ha fatto una proposta di una riforma della burocrazia regionale che è rimasta lettera morta che non è stata più applicata e questa è una gravissima responsabilità non solo noi abbiamo l'esigenza di rigenerare questa macchina amministrativa non solo alla regione a cominciare dai comuni dagli enti locali perché se lei parla con un sindaco ci sono sindaci io li vedo li incontro che fanno tutti da soli che non hanno più nemmeno gli uffici tecnici ma come fanno a realizzare questi investimenti noi abbiamo bisogno io lo voglio dire con chiarezza perché questa è stata una mia battaglia l'ho iniziata a fare quando ero ministro e continuiamo a farla adesso adesso come Partito Democratico abbiamo lanciato una proposta per assumere nella pubblica amministrazione meridionale in questi anni 300 mila giovani laureati qualificati che parlano inglese quelli che noi dobbiamo evitare che se ne vadano perché sono una ricchezza fondamentale per il nostro territorio però parlare di 300 mila assunzioni in campagna elettorale è una cosa che mi ricorda tante campagne elettorali del passato direttore sono numeri io gli rifaccio i numeri noi dal 2008 fino al 2030 cambiamo un milione di persone c'è un turnover di di un milione di persone nella pubblica amministrazione quel turnover che il governo della destra Tremonti perché qua diciamo adesso la Meloni è diventata il nuovo apro e chiudo parentesi la Meloni governava dal 2008 al 2011 non solo quando l'Italia è andata a finire sull'orlo della bancarotta quasi fuori dall'Europa lo spread da 600 vi ricordate tutti quello che è accaduto ma peggio la cosa che in questa campagna elettorale io mi sgolo perché è la verità e se la sono dimenticata in tanti è che Tremonti era quel ministro che prendeva le risorse del sud per gli investimenti e li utilizzava per farci tutto quello che voleva ha usato 30 miliardi 30 miliardi di investimenti che dovevano andare al sud e ci faceva cose anche nobili tipo la ricostruzione dell'Aquila ma non si capisce perché la dobbiamo pagare solo noi ma anche delle cose ignobili perché con quelle risorse lui pagava le multe sulle quote latte degli allevatori del nord se lo ricorda? ecco allora stando alle questioni lui ha bloccato anche il turnover e noi abbiamo un'amministrazione pubblica che è vecchissima un'amministrazione pubblica vecchia e povera di risorse è un'amministrazione pubblica che non solo non può garantire i servizi ai cittadini e anche alle imprese ma soprattutto non può attivare quelle leve di sviluppo necessarie a realizzare questi investimenti questo è fondamentale e noi abbiamo bisogno di giovani che parlano inglese che alzano il telefono e chiamano le grandi società partecipate nazionali per fare gli investimenti non come le società partecipate regionali me lo lasci dire che sono semplicemente che non sono state riformate come dovevano essere riformate che sono un peso per la regione che non riescono ad essere una leva di sviluppo che vengono utilizzate anche in questa campagna elettorale dalla destra per raccogliere consenso queste sono le questioni diciamo che una regione come la Sicilia si devono affrontare i cittadini devono sapere come stanno le cose devono avere le idee chiare devono decidere su questo se continuare come abbiamo fatto fin qui o se cambiare voltare pagina con una donna come Caterina che mici ma c'è una questione che mi sta a cuore che è quella della mafia non se ne parla non se ne parla non se ne parla quasi mai in questa campagna la questione della mafia è sempre là il grande tema è il rischio che le risorse possono finire alla mafia non può però essere un modo per non spendere le risorse questo è quello che è una anzi al contrario noi dobbiamo avere una macchina pubblica attrezzata e dei politici che hanno le antenne per evitare che quelle risorse vada fino alla mafia non perché non si devono spendere quelle risorse ma per evitare che vengano distolte dall'obiettivo di creare lavoro buono per i giovani e per le donne ma se io denuncio questo rischio e non è che lo denuncio io l'ho denunciato anch'io ma l'ha fatto il procuratore nazionale antimafia l'hanno fatto i sindacati l'hanno fatto le associazioni delle imprese lo hanno fatto tutte le persone che hanno a cuore quel piano nazionale con i fondi europei che può cambiare l'immagine del sud della Sicilia può dare servizi può fare tutto quello che non abbiamo fatto le infrastrutture che mancano se io denuncio questo rischio posso sentirmi rispondere come ha fatto Schifani Provenzano le spara grosse ma allora ricordiamo quello che è accaduto anche in questi mesi in queste settimane qui in Sicilia guardi che c'è noi abbiamo visto alle elezioni comunali di Palermo anche una domanda di mafia c'era un candidato al consiglio comunale a Palermo di Forza Italia che è stato intercettato è stato arrestato per questo parlava con un boss mafioso e gli diceva se sono più forte io siete più forti voi perché le maglie vogliono tornare in questo momento non è che erano scomparse prima non sparavano ma usavano la corruzione c'erano ancora e non solo in Sicilia perché questo è un tema nazionale non solo in Sicilia ma qui sappiamo che vogliono tornare a mettere le mani nell'amministrazione pubblica e allora di fronte a questo rischio dovremmo unirci tutti contro questo rischio e Schifani mi dice la spara grossa ma sono cose non lo so io ho sempre detto che lui con lui è un ritorno al passato lui era entrato in Parlamento quando io andavo alle scuole elementari non mi ricordo una io ho citato le cose che ho fatto io in un anno e mezzo di ministero e non mi ricordo una cosa che ha fatto Schifani per la Sicilia o per il sud mi ricordo il lodo Schifani che era un favore a Berlusconi ma detto questo se mi dici se parlare di mafia e spararla grossa vuol dire che torni agli anni 50 abbiamo poco più di due minuti per chiudere questa trasmissione il tempo sta finendo rapidamente due risposte una domanda che volevo fare perché è giusto lo accendiamo prima fuori onda è giusto che chi ci segue abbia questa risposta c'è stata una grande polemica sulla scelta dei candidati cosiddetti paracadutati perché il PD ha fatto questa scelta rapidamente ma il PD non l'ha fatta questa scelta c'è una candidata che non è siciliana la capolista al senato che però è una donna che ha guidato un grandissimo sindacato la CISL che si è sempre battuta per il lavoro per il lavoro delle donne che sono le priorità anche della Sicilia e del Mezzogiorno quindi noi siamo orgogliosi di averla e di sostenerla poi tutti gli altri candidati sono tutti candidati siciliani avveniva in passato che c'erano i candidati paracadutati vi ricordate la Boschi vi ricordate altre cose per fortuna non è più quel PD noi siamo cambiati il fatto che io sono candidato io e non la figlia di Cardinale come avveniva prima è la dimostrazione di questo cambiamento chiaramente questo è un problema trasversale per chi in altri partiti la voglia ma le polemiche nelle liste riguardano tutti però questi paracadutati altrove c'è la fidanzata di Berlusconi la Brambilla persone che non hanno niente a che vedere con la Sicilia e che qui non vedremo mai più ed era giusto però affrontarlo e fare questo argomento abbiamo l'ultimo minuto che solitamente io dedico sempre ai nostri ospiti per un appello al voto perché l'elettore deve votare Provenzano perché deve votare PT quali sono le cose importanti pronte a farsi subito o subito dopo ma io le cose da fare le ho dette le cose che ho fatto le ho ricordate ma c'è una questione per la quale bisogna scegliere il Partito Democratico per la quale io metterò tutto il mio impegno in questa campagna elettorale ma soprattutto dopo garantire il diritto a restare alle nuove generazioni al sud perché i giovani devono essere liberi liberi di andarsene anche ma per essere vera libertà devono avere l'opportunità di tornare e anzi devono avere questo diritto a restare che è fatto innanzitutto di prospettive di lavoro buono e per questo il lavoro è in cima alle nostre priorità contro la precarietà per il salario minimo per alzare gli stipendi devono avere quei servizi e soprattutto devono vedere che la Sicilia è protagonista partecipe di un grande progetto di cambiamento e intorno allo sviluppo sostenibile all'ambiente noi per la prima volta possiamo essere una regione che non si limita a inseguire gli altri ma si mette con un passo avanti bene grazie a Beppe per essere stato con noi in questi 24 minuti grazie soprattutto a voi che ci avete seguito e vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo Talk Sicilia arrivederci a fra poco grazie a tutti